Musica Una partita sola che racchiude però diverse sfide. E' il derby notaresco Francavilla. Due squadre che sono appaiate al terzo posto nel Giron F, che corrono anche per il primato regionale, e due allenatori che si conoscono e si stimano da tempo. All'andata, nelle immagini al Valle Anzuca, finì 1-1, vantaggio esterno di Candellori e penalti trasformato da Banegas. Al termine di una partita giocata a viso aperto, senza troppi tatticismi, tra due compagini che portano avanti un'idea chiara di gioco. Oggi vi proponiamo la vigilia vissuta in casa a Gelo Rossa con le interviste al tecnico Paolo Rachini e al direttore sportivo Paolo Dercole. Sarà una partita equilibrata come l'ho stata anche all'andata, due squadre che sono in salute, due squadre che secondo me stanno facendo molto bene, quindi penso che ci sarà un bello spettacolo da vedere. La gara non sarà semplice perché il notaresco, come hai detto tu, ha un'idea di gioco. È una squadra che dà intensità, un allenatore molto preparato, quindi una partita difficile. Un allenatore preparato che Paolo Rachini conosce bene perché ci ha giocato a fianco per quattro anni, credo, quattro stagioni nel Salerno. Abbiamo giocato quattro, cinque anni, gli anni d'oro della Salernitana, abbiamo iniziato insieme dalla C1 e poi dopo quattro, cinque anni ci siamo ritrovati in Serie A. Quindi è un ragazzo che stimo tantissimo, eravamo come fratelli, stavamo qua sempre insieme, quindi è una persona, più che l'allenatore rispetto veramente Cudini, ragazzo che è veramente eccezionale. Poi come allenatore, non lo devo dire io, sono i fatti che dimostrano che Mirko veramente sta facendo qualcosa di importante a San Nicolò. Sarà un Francavilla al gran completo, nel senso che è rientrato per uno spicchio di partita domenica scorsa, Cosmo Palungbo, uno dei vostri punti fermi, ce la farà giocare dal primo minuto o deve ancora decidere il tecnico? Ma guarda, si stanno allenando bene, quindi vuol dire che mi stanno mettendo in grosse difficoltà, vengono da infortuni abbastanza lunghi, però ripeto, li sto vedendo bene, quindi ci sono ancora due o tre giorni, però le possibilità ci sono anche di vederlo dall'inizio, ovviamente adesso vediamo questi due allenamenti, lo stesso Cafiero che comunque sono due settimane che si allena con la squadra, sta recuperando, quindi vedremo, ripeto, l'importante è che dopo tanto tempo si recuperano questi pezzi diciamo importanti, per il rush finale, per il rush finale, sì, quindi è una buona cosa che ritroveremo tutti a disposizione. Paolo Dercola, allora arriva questo derby che tra l'altro per voi del Francavilla sarà l'ultimo per quel che riguarda le formazioni abruzzesi, contro il Notaresco, entrambe appaiate al terzo posto, chi metterà la freccia? La freccia speriamo di metterla noi, poi il campo deciderà, sarà un altro bel derby e speriamo che vada a finire come sono finiti tutte le altre. Si diceva prima con il tecnico Paolo Rachini due squadre si affrontano che comunque non fanno troppi tatticismi in campo, hanno un'idea di gioco ben precisa, non snaturano mai il proprio gioco. Ma io penso che in questo campionato, penso che ci siamo già detti qualche tempo fa, sono le squadre che giocano il calcio migliore, penso insieme alla San Giustese, e poi sono due tecnici che si conoscono e che hanno anche giocato insieme, quindi sicuramente sarà una bella partita, speriamo che sarà più bella per noi. Le qualità che metterete in campo voi le conosciamo, se mi dovessi dire invece una qualità che ha il Notaresco? È grande carattere, corrono tanto, giocano bene, giocano a memoria e soprattutto sono incisivi. Voglio raggiungere un obiettivo che non erano i play-off, ma adesso nella testa si vede che ci credono, e quindi spero per loro ci riescano, però sempre dietro a noi. Allargando un momentino il discorso al girone, in questo campionato, in questo girone, in questa stagione in particolare, secondo te si è alzato, oppure è rimasto uguale il livello tecnico? Secondo me il livello tecnico è indiscutibilmente più alto. Ci sono squadre costruite con tanti sacrifici, quindi conseguenza a tanti soldi, partire dal Cesena, che comunque sapevamo tutti che dall'inizio avrebbe occupato una delle cinque posizioni, poi se era prima, secondo o quinta comunque. Forse anche proprio la presenza del Cesena ha spinto qualche società, forse anche qualche abruzzese, ad allestire organici più competitivi. Paradossalmente sì, forse sarebbe dovuto essere... Con meno speranze forse. Forse sarebbe dovuto essere il contrario, il ragionamento e doveva essere più un discorso di costruzione che non di rivalità contro il Cesena che secondo me si fa fatica a poter competere. Tornando alla sfida di domenica, anche tu come Paolo Racchini ti attendi una bella partita sotto il profilo proprio del gioco, dello spettacolo. Quello per i tifosi sì, io da direttore, da tifoso... Guardi il risultato? Eh, da tifoso Francavilla, in questo momento il risultato è la cosa migliore. Poi il bel gioco porta a far vedere alle persone o far credere alle persone che c'era anche il bel gioco. Noi abbiamo sempre giocato bene, se qualche volta poi possiamo giocare male e vincere va bene, uguale. Davvero l'ultima, Paolo, perché tu sei direttore sportivo, quindi sicuramente in questi ultimi mesi in particolare sarei andato a vedere anche qualche giocatore che potrebbe far comodo a questo Francavilla l'anno prossimo. C'è qualcosa di buono? Hai visto qualcosa di buono in giro? Qualcosa di buono c'è, c'è in tutti i gironi, anche perché la Serie D qualitativamente in certi versi è anche superiore alla Lega Pro che ho visto anche la Lega Pro. Ci sono dei giocatori che in D che io metterei in Lega Pro e qualcuno in Lega Pro che metterei più in D. ci sono specialmente in altri gironi tanti ragazzi interessanti, però anche nel nostro, però la nostra squadra secondo me ha bisogno di poco per essere quasi perfetto. Ciao!